Abbiati in campo Albertini no, Bressane e Zambrotti, i due esterni del Bari assenti, vengono rimpiazzati nel ruolo da De Ascentis, futuro milanista, e Madsen. E dal quinto, su iniziativa di De Ascentis, palla dentro, Costa Curta rischia lo stiramento, ma Osmanowski e Lesto, pallonetto e Bari in vantaggio, terzo gol per il giovane attaccante svedese. Azione, pallonetto, colpo sotto, che rivediamo. Attacca il Milan, corsa di Guli, il cross in Diveri, qualche incertezza, recupera su Birov. UEA, Boban e Una Zolla tradisce il capitano della nazionale croata che stava cercando il cross. Gioca molto bene il Bari, Marcolini dalla parte opposta per Osmanowski, al volo ma sul fondo. Poi, gioco sulle fasce, di spalle, Birov, la deviazione, parte alta della traversa. Bella azione, Marcolini, Madsen, Marcolini, Andersson, l'altro svedese cerca il palo sulla destra di Abbiati. Palla che fila sul fondo di pochissimo, forse una leggera deviazione. Siamo al quarantesimo, Helweg, uno dei rari cross da quella parte, UEA che stacca molto bene, anticipa tutti, ma va sul fondo. Il Milan però agguanta il Bari al quarantunesimo, ancora UEA. Guli, palla sul destro, dentro a cercare Boban, in qualche modo respinge in Diveri e Birov anticipa anche Georges. UEA ed è il gol dell'1-1, undicesima rete per il cannoniere tedesco. Con il montaggio di Alfonso Lodato, eccoci nella ripresa. Giorgetti perde rosa e Necruz va a fare il libero. Secondo minuto, Sala, Birov, Leonardo. Un'occhiata a destra per Helweg, palla al centro, numero di Boban che col petto da Birov, diagonale ma sul fondo. Poi fuori Madsen, dentro Knutzen, cambio fra danesi. Attacca ancora il Milan, UEA, pallonetto, ma respinge il faccione di in Diveri, come vediamo da questo replay. Ancora Boban, UEA cerca la soluzione da fuori area, poi giunti per Leonardo, decisamente sotto tono oggi il brasiliano e Zaccheroni soffre. E poi entra Ziga, a suo modo sarà decisivo, prima cerca il diagonale ad incrocio su questa azione e poi soffre di deconcentrazione perché Giorgetti ne approfitta, il pressing è valido, Osmanowski e palla del 2-1, siamo alla 34esimo, Bari in vantaggio, rivediamo. Il pressing di Giorgetti, sinistro, un secondo controllo e Abbiati è battuto ed è doppietta per lo svedese. Poi Boban va fuori, era tra i migliori, dentro Gantz. Ma attenzione, 46esimo, Maldini e Innocenti nel tentativo di stoppare Birov commette nettamente fallo da rigore. Pellegrino non ha esitazioni, va Gantz dal dischetto, 2-2, freddissimo l'ex giocatore dell'Inter. Quinto minuto di recupero, UEA per Birov, Gantz segna ma in netta posizione di fuorigioco. Insomma, Fascetti ha detto di aver visto il Bari del regione d'andata, un punto in trasferta dopo due mesi e mezzo, per due volte in vantaggio.